comunque posso finire il gioco che tanto mancava sul gioco e l'abbiamo fatto no dobbiamo finirlo trucco parrucco il pagliaccio stralunato sorridi che la mamma ti fa gli gnocchi il make up non è solo per le donne quello degli gnocchi io dico il pagliaccio stralunato e Oscar goes to era l'ultima o c'è? no l'ultima è vincitore 2017 The Shape of Water si la forma dell'acqua in italiano bello eh bellissimo infatti l'alternativa poteva essere c'è un rettile nel bagno mmm che pelle morbida che crema usi? vuoi il grana sulla pasta? oh no il caimano che crema usi? jacopino? c'è un rettile nel bagno ripetimi la prima c'è un rettile nel bagno anche io dico quello ragazzi non lo so perché sono tutte così belle che non ho scelto una bellissimo The Shape of Water uno dei più bei film avete vinto tutti particolare allora io voglio devi rispiegarmi un attimo le regole di questo gioco questi sono titoli che tu hai scelto come Fight Club testi e un rettile nel bagno che ci? tua